La diocesi di Teggiano Policastro da ieri sera può vantare la presenza di altri due giovani diaconi che a breve saranno ordinati sacerdoti dopo un lungo periodo di preparazione. Ieri sera le comunità di Varco Notarercole di Sassano e di Buonabitacolo si sono strette intorno ai loro due figli, rispettivamente Giovanni Calandriello e Franco Garone, presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Teggiano, dove hanno ricevuto, direttamente dal Vescovo della diocesi Monsignor Padre Antonio De Luca, l'ordinazione diaconale che li avvicina sempre più a ricoprire il ruolo di nuovi sacerdoti della diocesi. Una serata molto toccante per i tanti presenti alla cerimonia che si sono dunque voluti unire i due giovani che dopo un lungo percorso di preparazione ed una lunga riflessione, in particolare da parte di Gianni Calandriello, nella serata di ieri hanno raggiunto il primo ambito traguardo che li vede ora riconosciuti diaconi della Chiesa Cattolica con la possibilità di svolgere i primi incarichi durante la celebrazione dell'Eucaristia che comunque non potranno presiedere, almeno per il momento, in attesa che possano essere ordinati i sacerdoti. Un momento atteso dai due giovani di Buonabitacolo e Sassano e che ormai è sempre più vicino, ma intanto potranno iniziare a svolgere il loro ruolo nel clero indossando durante la celebrazione della Santa Messa un proprio abito ad indicare il loro ruolo di diacono. È stata una serata di grande gioia per i due giovani diaconi ed in particolare per Giovanni Calandriello a cui anche la comunità di Trinità di Sala Consilina ha voluto essere vicino nella serata di ieri, 12 settembre. Gianni Calandriello, proveniente dal collegio Alberoni dove si è formato, aveva già alcuni anni fa iniziato il suo percorso verso il sacerdozio, un percorso poi interrotto per la decisione di voler ben comprendere nel suo cuore la sua volontà e dunque per poter essere pienamente consapevole del servizio che voleva svolgere. Una pausa che lo ha reso ancora più forte nelle sue intenzioni. Una determinazione di intraprendere il percorso nel clero che era evidente ieri sera durante la celebrazione negli occhi di entrambi i giovani e anche nei loro gesti. Al termine della cerimonia sono stati in tanti ad avvicinarsi ai due giovani per rivolgere loro gli auguri per il traguardo toccato. Grazie a tutti.